... Arriva in bicicletta Renzo Castagneto, organizzatore di corse velocissime, a dare il via ai bolidi del nono Gran Premio di Bari, che meritava per tradizione uno svolgimento più appassionato. È stata una beneficiata delle Maserati, che, presentatosi al Gran Completo, ha piazzato tre vetture ai primi posti della classifica, con Moss, Vera e Berlisi. Per il pilota inglese col numero 42 è stato un autentico assolo di bravura. Dall'inizio alla fine egli ha dominato tutto il campo dei veloci avversari, rendendo quasi monotona la sua pur stupenda prova. Moss si è confermato una volta di più uno dei migliori piloti dell'ultima generazione. La tradizionale corona dall'oro ha incoronato alla fine il ridente volto del vittorioso.